Ancora una stretta sulla Movida. Il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, ha infatti revocato l'ordinanza che dal settembre scorso prevedeva la pedonalizzazione di alcune strade e piazze del centro nelle serate di venerdì e sabato. L'ordinanza riguardava l'asse via Roma, via Crispi e anche alcuni tratti di via Guido Monaco, via Cavour e via San Laurentino. La soluzione denominata Arezzo non molla, spiega il sindaco Alessandro Ghinelli, era stata pensata per consentire ai gestori delle attività di ristorazione di occupare suolo pubblico grazie al posizionamento di tavoli e sedie propedeutico alla somministrazione esterna di alimenti e bevande dalle 19 a mezzanotte. È chiaro adesso che i contenuti dell'ultimo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri non lasciano molti margini. Il DPCM del 13 ottobre infatti ha come obiettivo il contrasto degli assembramenti causati dalla cosiddetta Movida e impone dopo le 21 il solo consumo al tavolo per bar, gelaterie, pasticcerie, pub e ristoranti. Con il comandante della Polizia Municipale abbiamo quindi provveduto alla revoca dell'ordinanza 612 del 7 settembre 2020, la cui validità peraltro scadeva proprio in corrispondenza del prossimo fine settimana. Il comune di Arezzo si è inoltre adeguato all'invito del prefetto che in seguito alla riunione del Comitato Tecnico per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dello scorso ottobre ha raccomandato agli enti locali di svolgere ogni funzione, atta a disincentivare, condotte e configgenti con le misure finalizzate al contenimento della pandemia. Proseguiremo su questa strada, conclude Ghinelli, confidando nell'attività di controllo degli agenti di Polizia Municipale e soprattutto sul grande senso di responsabilità di cui gli arettini, ne sono certo, continueranno a dare ottima prova.